Mi piacerebbe tanto che gli amici tedeschi rammentassero come l'Europa li ha aiutati nel momento della riunificazione delle due Germanie, come sono riusciti a superare egregiamente quella drammatica prova della riunificazione della Germania Est con la Germania Ovest grazie all'aiuto dell'Europa, grazie all'aiuto di tutti gli altri paesi europei. Ricordatevelo tedeschi, ricordatevelo.